Ci sono ancora dei problemi per quanto riguarda i rimborsi dell'Enel, quelli che stanno avvenendo attraverso l'Eni? Sì, in pratica i tipi di rimborsi sono due, quelli automatici e quelli iniziali aggiuntivi che sono stati dati dall'Enel Distribuzione. Ora, per quanto riguarda quelli automatici, l'Enel Distribuzione ha dati i soldi alla società di vendita. Le società di vendita poi questi soldi le ha retrocessi ai consumatori. In che modo? O con lo sconto sulla fattura o dando l'assegno o il bonifico sulla base della scelta del consumatore. Nel caso di Eni ciò non è avvenuto, ovvero abbiamo la certificazione che l'Enel Distribuzione ha dato questi soldi all'Enel per i consumatori, ma i consumatori non hanno ricevuto nulla dall'Enel. Questo che significa? Questo significa in termini legali, in debito arricchimento, che è un problema di carattere penale per quanto riguarda la dirigenza dell'Enel. Chiaramente noi adesso metteremo in mora, comunicheremo che l'Enel Distribuzione ci ha comunicato che ha dato i soldi all'Enel e che l'Enel deve dare i soldi ai consumatori. Tutto questo ritarda i rimborsi? Tutto questo ritarda i rimborsi, procurando un po' di disagio ai consumatori, perché chiaramente devono mettere in moto una macchina di reclamo, quindi spese ulteriori che non verranno rimborsate.